delitto panzieri via la perizia psichiatrica di alessandrini demolizioni nelle viale trieste il lungomare si rifai le look ed è in viaggi in tv dopo 13 anni nuovo spot presentato a pesaro sport accessibile nasce il progetto parapentatlon vl ital service ad un'ultima di campionato da dentro o fuori una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 5 maggio che apriamo parlando di cronaca giudiziaria è partito infatti oggi l'iter della perizia psichiatrica per decretare la capacità di intendere e volere di maiko d'alessandrini al momento dell'omicidio delle 27enne per paolo panzieri ucciso a coltellata pesaro in via gaveli lo scorso 20 febbraio il trentenne alessandrini reo confesso dell'omicidio verrà esaminato da sette psichiatri che stabiliranno se sussistono le condizioni per l'infermità mentale totale o parziale alla base delle delitto con conseguente decisione sulle luogo di detenzione sulle peso della pena da scontare in caso di totale incapacità di intendere e volere non si andrà nemmeno processo ma si procederà la reclusione in una residenza psichiatrica giudiziaria i risultati della perizia psichiatrica andranno messi alle vaglie degli inquirenti entro il 30 giugno con il tribunale di pesaro che esprimerà l'esito il prossimo 14 luglio e dalla cronaca cambiamo argomento perché entra nelle vivo la bella stagione sul lungomare di pesaro e via le trieste si rifà il look dalle maxi cantiere di piazzale d'annunzio e tanti alberghi in ristrutturazione uno di questi viene del tutto demolito per poi essere ricostruito il servizio macchine demolitrici al lavoro sul lato ponente di viale trieste sotto lo sguardo incuriosito dei tanti avventori del lungomare di pesaro baciato da sole e temperature primaverili da una settimana infatti partita la demolizione dell'hotel garden imponente e storico albergo della città da un decennio divenuto monumento di abbandono e degrado a due passi dal mare dopo l'iniziale demolizione dei locali cucina il braccio meccanico si è alzato oggi fino all'ottavo piano per sgretolare metro dopo metro locale dopo locale la struttura ad angolo fra viale trieste e viale roveretto che già un anno fa fu oggetto di un servizio di rossini tv in seguito alle segnalazioni dei residenti attigui che ne lamentavano pericolosi cedimenti e poco edificanti incursioni notturne di balordi o senza fissa dimora da questo mese di maggio è iniziato invece un massiccio piano di riqualificazione targato renco spa la società proprietaria della struttura ha infatti ottenuto il via libera amministrativo alla ricostruzione dell'hotel dalle 68 camere dell'albergo edificato negli anni 70 nascerà un boutique hotel con 32 suite da 40 metri ciascuna con un ristorante una spa e un garage sotterraneo una struttura che rinascerà con dimensioni identiche all'attuali ma con ogni accorgimento innovativo dal punto di vista antisismico e di sostenibilità ambientale compreso un progetto di riutilizzo di acque piovane in quello che sarà il primo albergo di proprietà diretta di renco a pesaro in questo momento interrotto il transito in viale treste nell'area compresa fra viale pola rovereto e monfalcone ma l'interruzione durerà una settimana la demolizione sarà poi completata entro la fine di maggio successivamente ad ottobre partirà la costruzione del boutique hotel che sarà completato nel 2025 e arriva ad alcuni consiglieri comunali del centro destro una proposta volta a creare una rete di navette fra lungomare e colline come ci spiega michele redelli per valorizzare rilanciare l'attrattività ricettiva di pesaro crediamo che sia importante rendere alcuni luoghi ancora più accessibili per questo insieme al collega consigliere comunale daniele malandrina abbiamo presentato un'interpellanza in cui chiediamo all'amministrazione di impegnarsi per una vera rete capillare di navette che possano portare i turisti dalla zona del mare dalla pale pomodoro per intenderci fino ai quartieri più periferici ma che sono quelli dei nostri borghi delle colline dei castelli per esempio di monte ciccardo e della zona del parco del san bartolo crediamo che così facendo si potranno valorizzare molto di più i luoghi e le bellezze del nostro territorio che sono bellezze culturali che sono bellezze paesaggistiche e ne abbiamo parlato anche con molti albergatori che sarebbero contenti di poter anche contribuire organizzativamente alla realizzazione di questo progetto così come ne sono molto contenti degli abitanti e i vari esercenti per esempio dei borghi che vedrebbero valorizzati i loro luoghi e di tutto il mondo associativo che crea eventi e cultura in questi luoghi che vedrebbe una maggiore partecipazione anche dei turisti che vengono per esempio nel periodo estivo chiediamo all'amministrazione di fare in fretta nel aumentare questa rete di trasporti pubblici che possa in qualche modo rendere ancora più viva e ancora più capillare la presenza turistica e ricettiva su pesaro e restando sempre in tema di turismo il brand di viaggi alpitour continua ad investire su pesaro dopo aver recreato la nuova sede oggi è stata presentata in città la nuova campagna di spot che riporta ed è in viaggi in tv dopo 13 anni alpitour world continua a strizzare l'occhio a pesaro dopo la nascita della nuova sede dello scorso dicembre l'azienda leader nel settore travel investe 4 milioni di euro nella campagna comunicativa cross mediale di eden viaggi marchio di tour operating reputato con le maggiori prospettive di crescita in termini di clienti e ricavi fulcro della comunicazione è un nuovo spot tv presentato prima milano e oggi a pesaro che sarà on air da domenica 7 maggio ci fa molto piacere lanciare questo spot pubblicitario per eden viaggi che dopo 13 anni ritorna in comunicazione con un investimento molto molto importante stiamo parlando di 4 milioni soltanto per questa campagna che sarà cross mediale per utilizzare un termine un po del settore però insomma significa non soltanto in televisione ma anche sulla radio sui social media su internet su tutte le modalità diciamo principali di comunicazione con un potenziale viaggiatore nuovo spot molto centrato e soprattutto in linea con quelle che possono essere le esigenze di un cliente diciamo tendenzialmente orientato al fai da te che però trova tante difficoltà e magari nel costruire la propria vacanza di viaggi con questo spot e diciamo con anche la sua proposta di l'offerta di viaggi l'offerta di prodotto vuole appunto aiutare tutti i clienti a trovare soluzioni di vacanze a prezzi leggeri con zero sbatti quindi con una facilità estrema di prenotazione con tanta flessibilità offerta proprio da prodotto dei viaggi e tante destinazioni e sicuramente interessanti per le vacanze estive non solo una corsa contro il tempo non possiamo mollare adesso ragazzi vi voglio concentrati senza un programma non si va da nessuna parte una missione difficile serve un piano lo capisci fallire non è un'opzione abbiamo un obiettivo caraibi tu cerchi voli tu occupati degli hotel e tu pensi ai ristoranti un albergo a mezz'ora dalla spiaggia vuoi scherzare quelle vacanze andavano organizzate ci sono altre quattro persone che vogliono questa camera stiamo lì addosso a ogni costo riusciremo a partire fosse l'ultima cosa che faccio quest'estate blocca quel volo adesso dobbiamo poterci fidarti preparatevi a una sfida adrenalinica ci hanno mollato qui non risponde nessuno ma vedetta offerta ce l'avevamo in pugno oppure con eden viaggi è un'altra storia voli hotel selezionati assistenza garantita prezzi leggeri e zero sbatti incredibile ma eden una fiat punto in fiamme questa mattina alle ore 11 30 in strada di borgheria nelle quartiere di villa san martino a pesaro la conducente delle mezzo aveva da poco parcheggiato quando al rientro ha trovato l'auto incendiata per un sospetto cortocircuito i vigili delle fuoco hanno sedato il rugo con la polizia locale che ha chiuso le traffiche sulla strada per le operazioni di spegnimento e la città di pesaro fa d'apripista ad un nuovo progetto nazionale di sport inclusivo la federazione italiana pentatron moderno dà il via questo weekend alla prima sperimentazione del progetto parapentatron vediamo pesaro battezza il parapentatron muovendo un nuovo passo verso uno sport sempre più inclusivo che trova un punto di convergenza fra pentatron moderno e sport paralimpico un lavoro costruito passo passo dalla federazione italiana pentatron moderno che si concretizzerà al campo scuola di pesaro dove domenica le 14 30 andrà in scena il primo evento promozionale di parapentatron nel corso dei campionati italiani open junior e under 17 istituita la commissione consultiva sul parapentatron la disciplina presentato oggi in comune di fatto nascerà con la prima prova di laser run in 83 anni di storia della federazione una novità assoluta che a pesaro ha trovato terreno fertile per germogliare era da un po che ci riflettevamo la difficoltà l'abbiamo sempre incontrata sul tipo di eh competizione che dovevamo e avremmo dovuto disegnare sulle sulle singole discipline sulla tipologia di gara ecco adesso proviamo attraverso questa sperimentazione partendo dalla dalla serran che ci è sembrata la prova più semplice quella più più realizzabile nell'ambito dell'attività per diversamente abili abbiamo investito sul territorio anni fa creando il polo facchini che adesso è gestito dalla vl in collaborazione con la nuova ferrara l'abbiamo l'ha costruito la federazione italiana pentaton quindi questa è stata il tornare qui anche un significato del fatto di avere sempre tenuto particolarmente in conto questo su questo territorio presenti a pesaro non solo i vertici del pentaton italiano ma anche il presidente del comitato italiano paralimpico luca pancalli ha applaudito in collegamento col municipio la novità del parapentaton coltivata dalla consigliere federale pesarese adriana fabbri responsabile della federazione per le attività rivolte diversamente abili è quasi un anno e mezzo che ci lavoriamo siamo partiti dal nulla e grazie anche a piattaforma solidale e alla mia federazione e a tutti i ragazzi che ci hanno seguito e abbiamo avuto un team tra uno psico la psicologa che è filomena patella e michele tottero un professore di educazione fisica siamo riusciti a lavorare già da un anno e mezzo con i ragazzi che vedrete poi diciamo in manifestazione chiaramente è un mondo completamente come detto anche il presidente insomma esplorativo anche se secondo noi porterà delle grandissime soddisfazioni e ci stiamo lavorando tanto e penso che questo sia l'inizio soprattutto per pesaro perché pesaro ha una storia nel pentaton moderno e oggi sinceramente partire da qui a me mi emoziona tantissimo decisiva nella nascita del parapentaton anche il supporto psicologico alla disciplina sportiva rivolto a bambini e ragazzi diciamo che il ruolo di queste figure no professionali come lo psicologo innanzitutto è quello di aiutare i sportivi a comprendere meglio quelle che possono essere le difficoltà o le particolarità dei bambini o dei ragazzi con disabilità soprattutto a livello intellettivo relazionale quindi parliamo di autismo di sindrome di down quindi far capire ai tecnici bene quali quali sono queste particolarità e come affrontarle come adattare anche la pratica sportiva a questi bambini in un'ottica di vera inclusione quindi non dei corsi specializzati solo per loro per bambini con difficoltà ma inserendoli all'interno di un gruppo dove loro possano essere appunto inclusi ed è quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno appunto a pesaro con i nostri corsi di pentatroni di attività adattate e cresce la rappresentanza di confesercenti nel settore del turismo nasce infatti a poche settimane da quello di gabice mare il nuovo gruppo asso hotel di fano torrette marotta aderente alle sindacate di categoria presidente dell'associazione sarà giacomo mori giovane albergatore titolare dell'hotel florence di marotta e il comune di fratte rosa scongiura il rischio di commissariamento l'onorevole mirco carloni il sindaco alessandro valtroni hanno comunicato il lieto fine sulla lunga vicenda di dissesto finanziario che dalle 2018 interessa il comune il 3 maggio scorso la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha dato infatti parere positivo all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dalle comune e approda pesero il progetto craft surfing ideato dalla cna domani sabato 6 maggio alle ore 18 le telecamere di rossini tv saranno presenti l'inaugurazione della cosiddetta bottega ospitale quella dell'artigiana pesarese olivia monteforti nevia mazzini che per un mese ospiterà oggetti creati dal laboratorio linfa e la congrega un progetto di cna che ha le fine di vedere maestri artigiani ospitare nelle loro botteghe i prodotti di colleghi provenienti da altre città della regione e ora parliamo di sport e cominciamo dalle tennis maggio di grandi tornei per il tennis club baratov che vede questa domenica concludersi la seconda edizione delle torneo polvere di caffè dedicato alle singolare maschile femminile mentre da domani alle 14 di maggio andrà invece in escena la 35esima edizione delle torneo orna mobile circuito yacht dunloop experience dedicato ad under 10 12 e 14 e dalle tennis passiamo ora alle ciclismo perché è conto alla rovescia per il comune di fossombrone per l'arrivo di tappa del giro d'italia previsto per il 13 di maggio un unico transito della corsa rosa nella nostra regione marche un appuntamento molto sentito per la quale è stata incisa anche una canzone dedicata vediamo sarà il punto d'arrivo dell'ottava tappa del giro d'italia 2023 la città di fossombrone è pronta a tingersi di rosa in vista del 13 maggio per l'ultimo tratto dei 207 chilometri del percorso che partirà da terni in umbria e proprio in occasione del passaggio della 106esima edizione del giro l'amministrazione di fossombrone ha pensato di congelare il momento regalando ai suoi cittadini e ai turisti in visita un inno della città denominandolo l'inno di fossombrone dal ponte della concordia al fiume metauro sono diversi luoghi simbolo riportati nel brano citate le ponte della concordia che è un ponte ovviamente che tutti conoscono che è un ponte tutto sesto che venendo da urbino in ore particolari della giornata viene viene vista viene visto riflesso sull'acqua sotto un cerchio un cerchio perfetto vengono citate i cappuccini una croce un colle sopra fosombrone vengono citate le cesane beh le cesane c'è altro poco da dire una delle pinette del centro d'italia più belle che ci collega urbino quindi non è altro che un immaginario giro in bicicletta che la canzone ci riporta soltanto anche con l'immaginazione di ripercorrere questi posti fantastici e quindi è un qualcosa che nell'immediato ha subito il compito di di darci la possibilità di farci conoscere dare la possibilità ai turisti che vogliono percorrere le nostre colline il nostro il nostro la nostra città di farlo nella maniera nella maniera così più più bella vedendoci dentro questi magnifici posti per televisione che questo evento ci dà la possibilità di avere sia conto che si parla almeno di un'ora e mezza due ore di trasmissione con tante telecamere con elicottero che fa vedere un insieme sicuramente molto bello rudy valentino i baleiras gli autori e compositori dell'ino di fossombrone abbiamo cercato di comporre questa che poi è una volta in onore della nostra città proprio perché volevamo celebrare la tradizione abbiamo usato gli strumenti che sono poi alla base ritmica di questo genere ci sono la batteria c'è il contrapasso c'è il pianoforte e la chitarra che sono alla base appunto ritmica che hanno poi condato la musica jazz ma anche la musica folcloristica delle nostre zone oltre a questo abbiamo dato una connotazione appunto principalmente folcloristica con l'utilizzo della fisarmonica e l'utilizzo del trombone che appunto faceva almeno nella mia nella mia nel mio progetto da predunione appunto un collegamento anche sulla musica jazz del e dalle ciclismo passiamo ora alle basket perché domenica termina la regular season di campionato della vl una carpegna prosciutto basket e pesor che sogni i playoff ma che è scesa le nono posti ne classifica non è più padrona del proprio destino per guadagnarsi ottavo posto e post season dovrà battere domenica le 18 tortono alla vitri frigorena e incrociare le dita che brescia non faccia altrettanto con scafati in caso di una vittoria della vl con comitanti sconfitte sia di brescia che di brindisi pesaro chiuderebbe addirittura alle settimo posto chi è invece diventata padrona delle proprie destine l'ital service pesaro calcio 5 che in caso di vittoria nell'ultima giornata di campionato prevista domani otterrebbe la salvezza diretta dopo la straordinaria vittoria per 7 a 2 ottenuta nel turno scorso con eboli l'ital service pesaro si è messa nelle condizioni di essere padrona del proprio destino nell'ultimo atto di padova se sabato 6 maggio alle ore 18 vince sul campo del petrarca ultima gara della regular season sarà salvezza diretta per la società del presidente lorenzo pizza per vincere bisognerà però passare per un petrarca padova con le spalle al muro del dover evitare la retrocessione diretta se arriverà una sconfitta saranno play out per l'ital service se arriverà un pareggio bisognerà comprendere gli incastri determinati dal risultato del monastir giocheremo tutto lì sarà una finale una partita molto dura la squadra loro è molto forte però ce la metteremo tutta è una partita che vale tutte le stagioni per noi e per loro tocca vincere per forse secondo me c'è poca tattica questa gara è più cuore più grinta più voglia di vincere la squadra che sbaglia di meno vincerà carica di un toni dandel che commenta così il traguardo appena raggiunto delle 300 presenze personali collezionate in maglie dal service una gioia molto grande come ho detto già non ci sono scudetti coppa che si possono paragonare perché sono pochi giocatori che sono rimasti così tanto tempo in una squadra e io ci tengo tantissimo e per me è stata una gioia infinita e con quest'ultima notizia di sport termina qua la nostra nuova edizione di rossini news prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo le nostre prime serate perché inizieremo subito al termine di questa prima edizione del telegiornale alle 20 e 10 vedremo lo speciale tv dedicato al 230esimo compleanno della biblioteca e dei musei oliveriani prima serata delle 21 e 20 con la quarta ed ultima puntata dedicata all'azienda cosmolife azienda di rio salso quarta puntata dedicata al prodotto little mama alle 21 e 40 poi la nostra terza prima serata perché rivedremo lo speciale tv dedicato alla conf commercio marche nord alla presentazione dell'itinerario della bellezza 2023 presentazione che si è tenuta nello scenario esclusivo e bellissimo delle castello di brancaleoni di piobbico e vi ricordiamo anche l'appuntamento come di consueto domattina la nostra rassegna stampa a condurre la rassegna in questa occasione sarà il nostro marco cadetto vi ricordiamo ore 7 20 in diretta saremo in diretta anche su facebook e sul nostro sito o nella nostra app che vi ricordiamo sempre di scaricare le repliche ore 8 e 20 12 e 30 14 e 18 ed è davvero tutto per questa edizione di rossini news io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata